la principessa sul pisello favola di hans christian anderson voce narrante di marisa vacca c'era una volta un principe che voleva avere per sé una principessa ma doveva essere una vera principessa perciò viaggiò per tutto il mondo per trovarne una ma ogni volta c'era qualcosa di strano di principesse ce n'erano molte ma non poteva mai essere certo che fossero vere principesse infatti sempre qualcosa andava storto così se ne tornò a casa ed era veramente molto triste perché desiderava di cuore trovare una vera principessa una sera c'era un tempo pessimo lampeggiava e tuonava la pioggia scrosciava che cosa terribile bussarono la porta del castello e il vecchio re andò ad aprire c'era una principessa lì fuori ma come era conciata con quella pioggia e quel brutto tempo l'acqua le scorreva lungo i capelli e gli abiti e le entrava nelle scarpe dalla punta e le usciva dai tacchi eppure sosteneva di essere una vera principessa adesso lo scopriremo pensò la vecchia regina ma non disse nulla andò nella camera da letto tolse tutte le coperte e mise sul fondo del letto un pisello su cui mise venti materassi e poi venti piumini lì doveva passare la notte la principessa il mattino successivo le chiesero come avesse dormito oh terribilmente male disse la principessa non ho quasi chiuso occhio tutta la notte non so il cielo cosa c'era nel letto forse una pietra un piccolo bottone il guaio è che ora io mi sento tutta indolenzita avete capito maestà disse la vecchia regina arre questa è una vera principessa e come tutte le principesse è talmente delicata e sensibile che un piccolo pisello sotto venti materassi è riuscito a turbare il suo sonno così il principe la presa in sposa perché ora sapeva di aver trovato una vera principessa e il pisello fu messo nella galleria d'arte dove ancora oggi si può ammirare se nessuno l'ha preso vada bene questa è una storia vera fine del racconto